Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Come state? Spero che abbiate iniziato l'anno con il piede giusto e che siate pronti per una nuova lezione d'italiano. Allora, nel video di oggi voglio parlarvi di come pronunciare la lettera C, perché, come sapete, in base alla lettera che segue, la C viene pronunciata in modo diverso. Abbiamo due suoni con la C, abbiamo la C dolce e la C dura. Partiamo con il primo caso, che è il caso della C seguita dalla H. Il suono CH può essere seguito solo dalla lettera I e dalla lettera E in italiano. Quindi avremo sempre e solo i suoni CHI e CHE. La C seguita dalla H produce un suono duro, che corrisponde al fonema K. Allora, ovviamente ho bisogno di farvi alcuni esempi per farvi sentire la pronuncia di questi suoni, altrimenti è un po' difficile capire di che cosa si parla. Avete davanti a voi due liste. Una lista di parole contenenti il suono CH più I e una lista di parole contenenti il suono CH più E. Allora, vediamo la prima lista. Vediamo ora la seconda lista di parole. Come vedete, accanto ad ogni parola c'è la trascrizione fonetica. Il secondo caso è il suono C più I e C più E. La C seguita dalla I e dalla E produce un suono dolce ed è quella che in italiano chiamiamo la C dolce. Vediamo ora gli esempi con il suono della C dolce. Quindi C più I e C più E. Abbiamo Cicogna Cinta Decidere Facile Poi abbiamo Lucertola Centro Cerniera Cerimonia Sentite la differenza tra queste parole che vi ho appena letto e le parole precedenti, quelle corrispondenti alla C dura, cioè al suono del fonema K. La differenza è abbastanza evidente. Facciamo attenzione perché rientrano nella categoria della C dolce anche i seguenti suoni, ovvero Cia, ce, ciò e ciù. Quindi abbiamo Ciao Lancia Cieco Cielo Ciotola Ciocca Ciurma Acciuga Il terzo esempio è la C seguita dalle vocali A, O, U. Anche in questo caso la C è una C dura. Anche in questo caso avete la trascrizione fonetica che potete consultare e la trascrizione fonetica la trovate anche nei dizionari. Quindi se avete dei dubbi sulla pronuncia di una parola, controllate la trascrizione fonetica nel dizionario. Sarà più facile se avete familiarità con l'alfabeto fonetico. Allora, questo è quanto per la lezione di oggi. Spero che questo video sulla pronuncia della lettera C vi sia stato utile e che vi possa aiutare in futuro. Magari potete ascoltarlo e riascoltarlo. Se vi è piaciuto questo video mettete un pollice in su e non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale se vi va, se vi piace quello che faccio, se vi piacciono le mie lezioni. Grazie mille e ci vediamo nel prossimo video. Ciao Ciao